Ok ragazzi, quando fate parte del governo russo, Zio Vladi vuole spendere il 31% del budget statale, pari a circa 40 trilioni di rubli in armi, e il tasso di interesse base al 21%, che cosa potrà mai andare storto? Ebbene sì, per combattere le guerre, e soprattutto per vincerle, servono soldi, tanti soldi. E per ottenerli, se il vostro capo di stato non ha né la simpatia, né la faccia di tolla di Zelensky, che va a chiederli praticamente a chiunque, sempre, comunque, ovunque, beh, vi tocca ricorrere ai cari, bei, vecchi metodi. Metodi brutali, contrari alla Convenzione di Ginevra, come le tasse, per esempio. O metodi apparentemente più democratici e liberali, come la vendita di beni o servizi da parte di società, controllate in tutto o in parte dallo Stato stesso. Il governo russo, per esempio, possiede circa il 50% di Gazprom, quindi, molto in teoria, il 50% dei dividendi di questa società entra direttamente nelle tasche e soprattutto nelle casse dello Stato. Sventuratamente per Ziovladi, nessuno di questi due metodi è perfetto. Per esempio, recentemente, Ziovladi ha letteralmente raddoppiato le tasse sulla vodka, e i russi continuano a berla, ma non hanno apprezzato moltissimo la cosa. Similmente, Ziovladi ha portato anche una riforma fiscale, grazie alla quale tutti i russi pagheranno più tasse per sostenere lo sforzo bellico, e anche qui non tutti hanno compreso il suo spirito patriottico. Similmente, anche Gazprom, che, se non erro, per circa il 50% è proprietà dello Stato russo, non ha prodotto un centesimo di utile nell'ultimo anno e qualcosa, e oltretutto è nel rosso più profondo. Quest'anno il bilancio si chiuderà malissimo. Quindi, se tu sei quel poveraccio incaricato di far trovare a Ziovladi i forzieri pieni di rubli, a quale mezzo puoi ricorrere per recuperare capitali da investire nella macchina bellica? La risposta è semplicissima. In teoria, puoi creare e mettere sul mercato delle obbligazioni di Stato. Queste obbligazioni, al pari di tutte le altre, danno diritto a chiunque le acquisti di portarsi a casa, entro periodi di tempo prestabiliti, le famose cedole, ovvero una percentuale che possiamo definire come rendita o guadagno sull'investimento fatto. Tu investi un milione di rubli in un titolo decennale che ti frutta il 10% anno? Ebbene, ogni anno ti porti a casa i tuoi 100.000 euro e allo scadere del decimo anno, oltre ai tuoi 100.000, ti riporti a casa il tuo capitale da 100.000 rubli. Semplice, diretto, carino e tendenzialmente molto, molto difficile da realizzare in una nazione come la Russia. Per quale motivo? Ragazzi, il tasso di interesse base in Russia è al 21%. Significa che se tu prendi i tuoi soldi e li lasci in banca, la banca al termine dell'anno ti liquida direttamente il 21% di interessi, senza fare nulla, senza immobilizzare il capitale. È una buona cifra. Se tu sei abbastanza ricco, noterai che ti porti a casa il 21% in più senza fare un bippo. A differenza di quegli poveri sbippati che devono lavorare da mattina a sera. E similmente un tasso di interesse così alto ti scoraggia dall'investire, dall'attivare una società, oppure ancora dall'ampliare le tue fabbriche. Perché naturalmente nel momento in cui decidi di investire, probabilmente dovrai contrarre un prestito in banca. Ma col bippo che la banca ti fa un prestito a un tasso del 5-10%. Minimo minimo, come abbiamo visto nei video di ieri, ti chiede almeno il 23-24%. E quello è già un prezzo di favore. Perché diverse banche ti chiedono anche il 30% come tasso di interesse anno. Questo significa che la tua attività economica deve renderti molto più del 30% per giustificare quell'investimento. Perché se no, diversamente, lavoreresti per pagare la banca. E la cosa non ha senso. Dato che normalmente tu ti assumi anche un rischio di impresa e ti complichi la vita perché devi gestire l'azienda e i dipendenti. L'azienda si intende naturalmente i macchinari che la compongono, i beni materiali che la compongono. Sarebbe un mal di pancia che ti prendi a vuoto e un rischio che ti prendi a vuoto. E non ci sono tante imprese legali che ti fruttano molto di più del 30% anno. Anzi, non so neanche quante possano fruttarti il 30% anno di guadagno a fine anno. Quindi, se hai tanti, tanti soldi, difficilmente li investirai in fabbriche o nella produzione di beni e servizi. Calcolando che la Russia non eccelle nel settore manifatturiero, è un gran brutto colpo per Zio Vladi. Ma torniamo ai nostri bond, alle nostre obbligazioni emesse dallo Stato. Quanto ti offre Zio Vladi per acquistare dei bond biennali sulla sua piazza? Quale interesse, quale ricompensa indicibile e indescrivibile è disposto a consegnarti per prendere i tuoi soldi, trasformarli in carri armati e andare a fare il Bipula agli Ucraine? La risposta attuale è un dignitoso 17-18%, che per carità è sempre al di sotto di 3 punti rispetto al tasso di interesse base. Però, tuttavia, è una sommetta relativamente decente. Teniamo presente che questo interesse, o meglio, questa rendita, si è alzata notevolmente nel corso del 2024, perché all'inizio di quest'anno, forse alla fine del precedente, la cedola era al 9-10%, mentre invece adesso è tornata abbastanza in alto. È decisamente il secondo, anzi in realtà il terzo picco nell'arco degli ultimi 22 anni, perché all'inizio del 2002 aveva quasi raggiunto il 20%, anche nel 2015 aveva raggiunto un picco quasi simile al 19% e adesso è tornata al 18-19% o qualcosa giù lì. Ora, se fossimo in Occidente sarebbe un'ottima rendita, acquisti dei titoli di Stato, sono tendenzialmente sicuri in Occidente e ti porti a casa alla fine dell'anno un 18-19% di interessi. È un affarone da sottoscrivere a occhi chiusi se ti trovi in Occidente e se non avessimo di fronte la Russia. Infatti valgono i soliti tre appunti. Primo, il tasso di interesse base è decisamente più alto di questa rendita, quindi non vedo per quale motivo dovrei legarmi comprando dei titoli di Stato che poi magari non riesco a vendere agevolmente. In secondo luogo, se sono straniero corro dei rischi, perché Zio Vladi ha ampiamente dimostrato di non rispettare le promesse. Pensate per esempio alla nazionalizzazione di Unicredit, scherzetto che ci è costato 460 milioni, se non erro, e di altre mille mila imprese occidentali che operavano in Russia e che in Russia erano rimaste nonostante le sanzioni. E poi, naturalmente, c'è la grande incognita. L'economia russa reggerà perché è sottosanzioni. Al momento attuale il rublo e la baracca si regge più o meno perché Zio Vladi sta esaurendo le sue riserve di valuta pregiata e sta vendendo letteralmente l'oro un pochino di qua, un pochino di là e anche sotto banco. Quindi, prima di investire, anche se la rendita è buona, ci si dovrebbe pensare due o tre volte. E infatti, se osserviamo questo grafico, vediamo immediatamente che Zio Vladi non è che proprio proprio attragga investimenti stranieri come un'Arabia Saudita o un Sud Corea. Anzi, al contrario, gli investimenti stranieri sfuggono a gambe levate negli ultimi due anni e qualcosa. La linea blu rappresenta il volume di investimenti stranieri in titoli di Stato russi. Come potete vedere, dal 2012 al 2021 sono andati crescendo, sono in miliardi di rubli, se non vado errato. Quindi, ci sono più di 3 mila miliardi di rubli di investimenti stranieri al 2021. La Russia è diventata un ottimo mercato. E, detto fra parentesi, gli acquisti di titoli di Stato russi da parte di stranieri hanno superato il 35% dei titoli di Stato piazzati. Quindi, gli stranieri fino al 2021 in Russia investivano. Piaceva investire in Russia, nonostante le blande sanzioni e via discorrendo. E ci si sentiva tranquilli a investire in Russia. Dopo l'inizio della guerra, come potete vedere, gli investimenti stranieri, o meglio, gli acquisti stranieri di titoli di Stato russi sono letteralmente crollati. Si è sportivamente passati da 3 mila miliardi di rubli a 1.500. Si è letteralmente dimezzata la somma. E, per quanto riguarda la percentuale di investimento, la situazione non è molto diversa. Si è passati dal 35% al 7%. E' tutto denaro che Zio Vladi ha perso e che non ha a disposizione per comprare i suoi preziosi carri armatini. E, naturalmente, a questo punto chiunque si porrebbe una domanda ma c'è qualcuno che questi titoli di Stato russi li acquista? Oppure restano tutti quanti invenduti sugli scaffali a prendere la polvere mentre le commesse sonnecchiano? La risposta è nì. Nel 2022, all'inizio della guerra, il Ministero delle Finanze russo ha proposto una vendita così tanto per sondare il terreno di circa 700 miliardi di rubri. Ma ne sono stati piazzati circa 50. Sono rimasti invenduti, per così dire, o meglio, non piazzati, circa 600 milioni abbondanti di titoli di Stato russi. Nel secondo trimestre, anzi, sì, nel secondo trimestre addirittura non ci hanno neanche provato a piazzarli i titoli di Stato. Quindi, non ci sono state offerte, non ci sono state acquisti. Nel terzo quarto, quindi nel terzo trimestre, c'è stata una proposta risibile probabilmente di 20 miliardi di rubli che non è stata soddisfatta, è andata praticamente in bianco. La cosa strana e assurda è che nel quarto trimestre c'è stata una richiesta di titoli di Stato russi enorme. Parliamo di 1200 miliardi di rubri, cioè un triliardo e 200 milioni, se non vado errato. Tantissimo. a fronte di una proposta molto bassa. Quindi c'è qualcuno che ha fatto incetta di questi titoli di Stato. Io ho una mezza idea su chi possa essere, ce l'ho, ma la tengo per me. Nel 2023, invece, la proposta del Ministero delle Finanze è stata per 900, 800, scusate, 800 miliardi di rubri e sono riusciti a piazzarne un 700, un risultato tutto sommato dignitoso, tutto considerando. Nel secondo trimestre, invece, la proposta è stata sempre vicina agli 800 miliardi di rubri e ne hanno piazzati quasi 800. È stato l'optimum nel 2023. Già nel terzo trimestre le cose hanno iniziato a peggiorare sensibilmente. Hanno provato a piazzare un trilione di rubri, ma hanno fallito miseramente perché in realtà la richiesta e quelli venduti, i titoli di Stato, piazzati, sono stati sempre 700. Nel quarto trimestre la situazione è andata deteriorando. Il Ministero delle Finanze ha proposto 500 miliardi di rubri e ne sono stati piazzati effettivamente un pochino di più, 500 e qualcosa. Ma nel 2024 la situazione non è andata proprio benissimo. A fronte di 800 miliardi offerti ne sono stati poi piazzati poco meno, 780 a occhio, e soprattutto nel secondo quadrimestre a fronte di 1000 miliardi di rubri ne sono stati piazzati meno di 400. Quindi praticamente il 2024 non sta andando benissimo per i russi. Considerate che a fronte di un'offerta di circa 1 miliardo e 800 milioni di miliardi di rubri ne sono stati piazzati meno di 400 miliardi. Insomma, una vera e propria miseria. Quindi i titoli di stato russo funzionano? La risposta è no, funzionano malissimo, ma tuttavia vengono acquistati dagli oligarchi perché sono comunque una finestra di opportunità dalla quale non corrono il rischio di essere lanciati. Mi spiego meglio. Molti oligarchi e uomini di potere devono la propria posizione a Vladimir Vladimir Putin, presidente di tutte le federazioni russe, passate, presenti, futuri, condizionali e congiuntive, ma soprattutto anche imperative. Motivo per cui se Zio Vlad ti chiede per favore di acquistare qualche titolo di stato russo, tu li acquisti quei titoli di stato e no. Stavo scherzando, in realtà Zio Vlad non ti chiede per favore, tu esegui i suoi ordini e basta. E' così che funziona. Ed è così che lo stato russo raggranella qualcosa, ma non abbastanza rispetto a quanto gli serve. Inoltre alla fine dell'anno lo stato russo deve comunque pagarle le cedole e se quei soldi li spende in armi invece che in infrastrutture che possono trainare l'economia è chiaro che sono tutti soldi buttati. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video ricordatevi di premiare il canale, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete il link al video sui social che frequentate e naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso. Se poi siete particolarmente affezionati al canale fate il passaggio in più. Abbonatevi oppure diventate dei Patreon. Nel caso in cui non facciate assolutamente nulla di tutto questo, in un futuro remoto, eventuale e certamente puramente ipotetico potreste trovarvi Zio Vladi come vostro broker personale. E non vede l'ora di brokerarvi, ve lo garantisco. Come sempre grazie di tutto per tutto e a presto! e a presto!